Allora, questo è prima della cura, il soufflé crudo. Ora lo vado a cuocere. È un soufflé di cioccolato? Cioccolato e nocciola Piemonte. Lo cuociamo. Perfetto. Lo inseriamo nel forno a quanti gradi? 190-10 minuti. Perfetto. Ancora pochi minuti e il soufflé sarà pronto. Il soufflé alla nocciola è pronto. Il soufflé alla nocciola Piemonte. Sì, il GP. E il sorbetto ha frutto della passione. Perfetto. Questo dolce è stato preparato? Alberto.